Dopo la ristimazione di via Sospiridione, via Filzi, il buono stato di avanzamento dei lavori di piazza Ponte Rosso, ora è stato presentato quanto si sta lavorando sia in via Trento che in Largo Panfili. Sì, è una zona su cui stiamo lavorando. Il Borgo Teresiano abbiamo considerato che è un ambito che aveva bisogno di interventi, anche interventi importanti perché già a seguito della collocazione del cosiddetto Ponte Curto, che poi Curto evidentemente non era mai stato, si è capito che quest'area aveva bisogno di una rivetalizzazione, quindi anche l'intervento su via Trento Largo Panfili porterà sicuramente una maggiore e migliore fruizione di quest'area, darà un nuovo respiro a quest'area, anche in termini turistici perché quest'asse, diciamo un po' privilegiato, pedonale, ciclabile, poi si connette da una parte con la stazione centrale e dall'altra parte con tutto il sistema delle piazze cittadine, arrivando in una condizione di pedonalità poi fino a Piazza Venezia e quindi un percorso sicuramente privilegiato che attraversa la parte storica e forse più significativa della città e quindi credo che sarà anche gradito molto da chi la città viene a visitare. Nel caso di Largo Panfili io credo verrà un gioiellino, lo definisco, perché le architetture attorno sono architetture di pregio, verranno eliminate le macchine, la chiesa finalmente avrà un sagrato degno di questo nome, pianteremo degli alberi, quindi ci sarà anche un punto diciamo che ombreggiato, fresco per la pausa estiva, metteremo le panchine, recupereremo gli antichi masegni, quindi penso sarà sicuramente un intervento apprezzato ed importante. Un percorso anche alternativo alle rive, possiamo dire? Sicuro, un percorso alternativo alle rive, ripeto in una condizione praticamente di quasi assenza di automobili, anche quindi una pedonalità spinta e quindi anche sia per i cittadini, come dicevo prima, per i turisti o chi si muove in bicicletta sarà un'alternativa importante alle rive, in una condizione in cui appunto, ripeto, ci saranno poche macchine e quindi una maggiore libertà e credo anche fare bene al Borgo Teresiano stesso in termini commerciali, anche dei valori degli immobili perché no, perché insomma la parte bassa, soprattutto il Borgo Teresiano in questi anni era stata un po' dimenticata, pochi interventi, ma soprattutto pochi interventi non tanto di manutenzione ma strutturali come questo, questo sarà un intervento che insomma cambierà il modo di fruire il Borgo e cambierà la sostanza, credo, del Borgo Teresiano.